o Pasqua, io non so quando è Pasqua Pasqua non lo sa nessuno però cambia però perché ho un calendario un po' particolare io sono cresciuto in comunità e lì in realtà una festa ogni tanto veniva fuori però era tutto un po' così festa generale non si faceva Natale? sì però non c'aveva un calendario da guardare erano proibiti i calendari no non è vero buonasera a tutte buonasera a tutti benvenuti alla puntata numero 152 di Tintoria applauso e vai alla mia destra Stefano Rapone ragazzo bellissimo ci troviamo sempre a Snodo siamo sempre coprodotti da The Comedy Club come stai Stefano? bene bene non c'è male tu? bene dai ci difendiamo sì nonostante il periodo senti 152 puntate 152 puntate che ho detto prima? 152 sì ci credi? incredibile come vola il tempo come i Pokémon più uno come Pokémon più uno è vero come Pokémon più uno sì bello che che poi la prossima quindi è la 153 sì è l'ultima è l'ultima ti ricordi avevamo detto a 153 ci fermiamo e infatti dai ce l'abbiamo fatta ne manca una la prossima facciamo solo io e te basta bello chiudiamo al top è stato bello è stato bello comunque come te la passi questo San Valentino è vero è San Valentino tra noi guarda lo passo con l'unica persona con cui avrei voluto passare oh che bello sei tu grazie e loro no loro no questo pubblico e loro alcuni di loro alcuni anche loro sono venuti qui a San Valentino vuol dire che non hanno il meglio da fare sono proprio a capolinea certo purtroppo vabbè per noi è un piacere mi dispiace no però secondo me è un bel date tintoria è bello in quale se bevi due birre ascolti una puntata gli ospiti sono sempre come si può vedere da questo scambio gli ospiti sono l'unico motivo per cui tiriamo avanti perché se era per noi c'è qualcuno che è il primo appuntamento magari sì no non lo so c'è qualcuno che ha il primo appuntamento ringraziando il dio nessuno meno male va bene come date ma come first date oh ti porto in un posto stranissimo no ma mo vedi fra un po' fanno ridere mo che arriva l'ospita e mo è strano ma tra un po' vedrai diventa interessante guardando t'ho portato e si fanno selfie da sole guarda t'ho portato a via del mandrione che ci stanno pure i lavori per entrare bisogna paracadutarsi San Valentino sì incredibile siamo fortunati comunque a poter a poterlo festeggiare comunque non è da tutti dici no non è da tutti non è la festa degli innamorati però non in tutti i paesi del mondo si può si può vivere liberamente l'amore e invece in Italia con alcuni magari con alcuni dossi lungo la via però più o meno tutti possono vivere il proprio amore liberamente ecco diciamo il pensiero va alle persone che a San Valentino magari sono sole e e non vivono non vivono l'amore e e magari si appoggiano a dei dei surrogati cioè che ne so a San Valentino mi ricordo quando ero singolo a San Valentino cioè adesso dicono però tipo i city porno comunque si vestono a festa per San Valentino ma certo per farti sentire però è giusto cioè sono un business però sono un business no che comunque pensa al consumatore per quanto poi si possa discutere del male che possa fare la pornografia quando abusata però è una cosa e dici che non tutti possono beh no non tutti quanti perché cioè metti che tu sei una pischella una donna iraniana che sta combattendo la rivoluzione giustamente è arrivato San Valentino dopo tutti questi giorni di rivoluzione ti puoi vedere un video porno che ti piace non lo puoi fare perché in Iran non lo puoi vedere devi chiedere il permesso devi chiedere il permesso e insomma se ti togli il velo sei nei guai se chiedi di vedere un porno non lo puoi fare certo e non lo puoi fare perché poi è tutto bloccato se solo ci fosse un modo un modo per vedere per vedere però scusa ma che lo dica ad alta voce secondo me dico una follia se usi NordVPN certo hai accesso alla pornografia pure dall'Iran dovunque pure dall'Iran certo pure dall'Iran certo poi le conseguenze che ti scoprono non sono responsabilità nostra né nostra né di NordVPN questo lo dobbiamo dire sì però però se non ti fai sgamare no certo dove devi andare guarda basta che vai su nordvpn.com slash tintoria c'hai pure lo sconto e ti puoi vedere e ti puoi vedere i video che vuoi o puoi anche fare delle bellissime videochiamate romantiche col partner che è scappato come un coniglio mentre tu sei rimasto a fare la rivoluzione però l'amore è amore e se questo è l'amore che ti è toccato gli dici come va la rivoluzione e lui da Miami Beach qua va benissimo a te però lo puoi fare solo con nordvpn.com slash tintoria che tra l'altro si trova in descrizione a questo video o se stai ascoltando in descrizione della piattaforma su cui lo state ascoltando e lei ti risponde basta un click basta un click questo per la porta del mio cuore basta un click per la porta del mio cuore basta un click potrebbe anche essere questo eppure la rivoluzione iraniana l'abbiamo utilizzata a scopi di lucro nostri questo mentre lo dicevo mentre avevamo preparato prima pensavo avevi di far ridere poi mentre lo dicevo ho detto forse è di cattivo gusto però oramai l'abbiamo detto stare al nordvpn decidere se siamo delle bestie però mi sembrava vabbè un messaggio positivo sex positive self sex positive secondo me senti a proposito di self sex devo fare una cosa un po' devo fare un video sì un uso privato del mezzo privato perché come sai magari lo sanno anche alcuni telespettatori mi hanno hackerato instagram perché sono sono un cane a usare le cose digitali perché non hai usato nordvpn non ho usato nordvpn e quindi e qualcuno ha usato nordvpn sul mio instagram e quindi me l'ha preso certo tra l'altro letteralmente perché qualcuno che localizzato a dallas mi ha sospetto che non fosse un signore texano ad avermi rubato e quindi visto che sono in tour devo promuovere le date qua e non lo farò su instagram perché non ce l'ho e per fortuna la maggior parte delle prossime date sono sold out e per questo ringrazio tutte le persone che hanno preso i biglietti però adesso finiamo questa lagna leggo le date future che non sono sold out per esempio vado a Pisa il 19 febbraio posto molto grande prima volta che vado a Pisa e però la cosa bella è che questa puntata uscirà dopo che ci sono andato quindi prima data l'abbiamo saltata poi il 24 febbraio sono a Rosà tra parentesi Vicenza questo ci tengo a dirlo per le persone come Stefano che non sa 25 febbraio sono a Recanati il 2 marzo sono a Perugia poi Milano che per fortuna è sold out il 17 marzo sono a Minervio provincia di Bologna bravissimo e poi sono a Catania a Messina a Comiso e a Siracusa poi ce ne sono anche altre però insomma amiche e amici siciliani venite numerosi tutte le date le potete trovare su thecomedyclub.it oppure su danieletinti.eu e va bene finito l'uso privato del mezzo privato posso dire io ho alcune altre date ho letto ho letto che erano il 20 marzo a Milano ad Arcimboldi 30 marzo Torino l'eroi 16 aprile Roma Brancaccio e 20 aprile Bologna teatro celebrazioni però ti stai confondendo quelle sono le tue sono le mie ecco perché quelle sono le tue ti sei confondendo sono contento che anche tu abbia fatto quest'uso di youtube nonostante tu abbia instagram nel pieno delle sue funzioni mi fa piacere mi fa piacere non ti preoccupare se ho fame non farci caso se a casa le luci non si accendono più ma tu vai pure tranquillamente ce l'avevo qua tra l'altro sul fronte tintoria non possiamo dire niente ma ci saranno delle sorprese si? si penso di si no che andiamo ah si si andiamo da qualche altra cioè no oltre qua oltre qua andiamo anche in altri posti un altro posto uno non lo diciamo perché no a sorprese non se lo immagineranno mai posto dove non si fa nientà quando non si va a Roma di solito non si va in quest'altro posto proprio mai 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 non è la città che vi immaginate sta durando tantissimo mamma mia una tortura se l'ospite se n'è andata la capisco perché sono due ore che andiamo avanti va bene certo comunque non è certo grazie a me a te se siamo arrivati a 152 puntate questo è poco ma sicuro forse è grazie al pubblico ma sospetto di no sinceramente perché siete venuti qua a San Valentino quindi valete tanto quanto me e Stefano deve essere grazie agli ospiti che sono straordinari quindi senza ulteriori induggi io vi chiedo un applauso per l'ospite della puntata numero 152 di Tintoria signore e signori solo per voi Andrea De Locu non avevate più nessuno 151 prima di me ne avete chiamati sì però con diversi doppioni un sacco di doppioni quasi tutti di livello basso tu pensa che io faccio programmi di 8 puntate 2 a puntata e poi non so mai più chi chiamare quanti ne avete fatti voi? tanti tanti doppioni parenti, amici amici del mondo della stand up comedy proprio li abbiamo spremuti come limoni sì 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 se vedi ci sono c'è un numero di Michela Giraud che è proprio fuori controllo sì sì pure Lundini l'abbiamo tutti quelli che abbiamo potuto strattolare quindi nella disperazione avete chiamato me no adesso siamo arrivati a un livello in cui potevamo ambire a chiamare esatto esatto prima non ci azzardavamo neanche invece adesso ogni 4 Lundini possiamo chiamare esatto questo è il cambio il cambio corrente diciamo benvenuta grazie 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 a San Valentino lo dicevamo prima la festa delle innamorate quindi grazie ancora di più per stare con noi nel senso ti poteva andare meglio sto San Valentino guarda guarda dove sei finita io l'ho scoperto dopo che era San Valentino perché noi ci siamo scritti però non ho letto tu mi hai scritto che ero a Sanremo ed era un po' così e quindi ho detto sì sì vengo il 14 e alla fine però ho fatto l'amore prima ah allora bravo hai messo via sei venuta già ecco sei emozionato qualcuno hai fatto cascare cascare un bicchiere già già amata sei venuta già innamorata già come si può dire bene bene va bene ma San Valentino normalmente è una festa di cui ti frega qualcosa sospetto di no visto che il 14 febbraio ho detto ma sì andiamo a fare tentoria pensa che io non l'ho non l'ho mai festeggiata come mi sfuggono un sacco di feste che si festeggiano tipo io Natale non ho ben capito se è il 24 il 25 e ogni volta me lo ripetono o Pasqua io non so quando è Pasqua Pasqua non lo sa nessuno però non lo sa ah ok cambia è una cosa che però perché ho un calendario un po' particolare io sono cresciuto in comunità e lì in realtà una festa ogni tanto veniva fuori però era tutto un po' così insomma festa generale non si faceva Natale sì però non c'aveva un calendario da guardare erano proibiti i calendari ah sì è vero no non è vero incredibile che giorno è cos'è questa cosa con dei numeri sì 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 quindi quindi non sapevo fosse c'è nel senso San Valentino però San Valentino si regalano i cioccolatini sì così sì volendo sì se vuoi chiedere alle nostre fidanzate se hanno ricevuto dei cioccolatini io no no la mimosa no quella è la festa della donna la festa della donna la festa della donna ok anche il dolce la mimosa il dolce sì quello però quando vuoi quello quando soprattutto Stefano quello lo mangio ogni volta che può sì sì io ogni giorno mangio delle mimose vedi quindi questa cosa vabbè giusto ma qui c'è tu ma davvero non hai cioè non non ti accorgi delle feste tipo ma no poi lavora il radio e non abbiamo le feste cioè nel senso chi lavora nel servizio pubblico sti cavoli quando tocca a te tocca a te e quindi qualsiasi festa io sto in onda a meno che sabato o domenica sabato o domenica me ne vado lascio spazio lundini giusto vedi è chiaro perché pure qua il cambio lundini deve fare quanti weekend deve fare ancora Valerio prima di prima di passare esatto però Capodanno sì lo fai Capodanno lo fa certo perché Capodanno quando facevo la vocalist era il giorno in cui si guadagnava di più certo quindi lì andavo a far cassa era cerchiato e si diceva quasi va a fare ma facevi anche la cosa e facevi più di una serata più di una comparsata oppure andavi a lavorare no perché facevo la vocalist non da conosciuta proprio da vocalist quella che sta in console fa lo sporco lavoro poi arriva la persona famosa il Costantino italiano della situazione salutiamo Costantino Costantino grande italiano saluta saluta fa le foto fa mezz'ora prende dieci volte quello che prendi tu anche un po' di più e se ne va e poi se ne va a fare la stessa cosa in un'altra discoteca e tu stai lì fino alle sei del mattino quando poi il proprietario prende i dieci mila le dieci mila no dieci euro che non sono così vecchia i dieci euro di tutti gli adolescenti che c'erano e te li dà in pacchetti certo che poi chiaramente tu la fai una bella fattura ovvio sempre tutto fatturato il clubbing italiano si fonda sulla regolarità certo ma questo è normale ci teniamo anzi a ribadirlo ma c'era un Costantino italiano che ti ricordi c'è uno che effettivamente è venuto a fare Costantino italiano era proprio lui ah no era sempre lui c'era Costantino italiano che veniva a fare le ospitatone poi c'erano tutti quelli dell'isola dei famosi io stavo lì e la cosa brutta è che poi il vocalista deve sapere per forza i nomi di tutti perché sei tu che devi e io non li sapevo perché non puoi sapere i nomi di tutti non posso sapere i nomi di tutti 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 se manco che festa è di figura di essere il nome certo e quindi abbozzavo un grandissima spettacolare ah bene non ci sta e senti che tipo di vocalisteri su le mani su battete le cazzo le mani al tempo quella che non sa cantare quella che non sa cantare va bene ero proprio quella quella lì che non sa cantare ma si metteva degli shorts giusto devi bilanciare mi sembra corretto avevi delle frasi ricorrenti che dicevi avevi delle formule questa forse è una delle cose che mi sta imbarazzando a dire ma io avevo nelle note del telefono delle frasi standard perché poi me le dimenticavo perché non interessandomi quindi che prima di andare sulla console leggevo allora sulle mani sulle mani sulle mani poi dove sono le mani poi fate vedere le mani oppure chi sono gli amici di e poi elenco di paesi vicini sì che quello sempre quella roba funziona se tu sei a Milano gli amici di Lodi e gli amici di Casa del Pusterlengo gli amici tutto funziona e poi qualche pezzettino cantato male sembra quando la polizia fa irruzione dice le stesse frasi c'è un poliziotto fuori dalla porta con la pistola fa sulle mani sulle mani sulle mani fatemi vedere le mani dove sono le mani chi sono i vostri amici dei paesi vicini hanno lo stesso foglietto vai sono pronto e io così bello bello dove sono gli amici di è la cosa più bella e poi te li giochi sul campanilismo oh guarda quanto casino hanno fatto questi ora tocca a voi la cosa della discoteca che mi faceva veramente impazzire era che tutti volevano essere salutati come se solo se vieni salutato allora esisti ma non con nome e cognome che quindi tu dici saluto Giovanni Finferli e allora dici ah sono proprio io no Giovanni da Imola ma quanti Giovanni da Imola ci possono stare in un posto di 600.000 persone tu salutavi Giovanni da Imola un giorno eri in console e venne un ragazzo e mi disse puoi salutare adesso non mi ricordo Matteo un mio amico che è venuto a mancare ma in che senso è morto la settimana scorsa se puoi salutarlo e io non capivo ma scusa è morto ma perché lo devo salutare cioè in che senso ha cominciato a piangere mi ha preso totalmente alla sprovvista e l'ho salutato hai detto proprio Matteo hai detto solo un saluto a Matteo o un saluto a Matteo che ci guarda dall'assù che è venuto no mi sono fermata a Matteo perché ah certo ho avuto quel pudore del forse sta soffrendo no hai fatto e poi non puoi rovinare la serata a tutti tutti stanno là a fare serata e te dici oh comunque pensiamo anche a chi non c'è più ecco ma vedi quanto è importante per la gente che paga quei 15 euro in discoteca essere salutati dalla vocalist quindi la vocalist è un lavoro importante è un lavoro importantissimo ma c'erano le scene dove se al tavolo arrivava la bottigliona col bengala e tu facevi guarda che c'è al tavolo il principe bravo il principe il principe il principe in ogni discoteca ci sono tre principi sì 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 è il primo unula di principi bellissimo e poi soprattutto ogni volta che prendono io sono a Stemia ma anche molte persone che lavorano in discoteca non bevono quindi ogni volta che arrivano una di queste bottiglie loro prendono un flute anche una bottiglia e la portano facendo i fighi a chi sta in console perché offrire alla vocalist e a DJ è figo è categorico quel bicchiere fa questo e non lo vedrai mai più quindi a fine serata c'hai tutta una serie di flute sotto la console a fine serata non so se qualcuno di voi abbia mai fatto il DJ non lo so qualcuno che ha fatto il DJ lo sa o anche il vocalist sotto la console è pieno di bicchieri non toccati di persone che ti offrono un drink e tu ti dico sì sì mi fido ciecamente so chi sei siamo amici bellissimo guarda è stupido perché allora il mondo dei vocalist a me mi ha sempre attirato io stavo dall'altra parte della staccionata in mezzo alla folla però che poi adesso si sono un po' estinti i vocalist cioè prima erano ovunque adesso nella maggior parte delle serate non ci sono più quando io andavo alle feste di 18 anni non poteva esserci DJ di 18 anni senza vocalist di 18 anni che copiava Lu Bellucci e Harry Pass del Diabolica di solito si faceva la voce mi permetto di dire effemminata però magari questa la tagliamo vabbè questa che avete sentito Lu Bellucci e Harry Pass lo sapete Harry Pass prossimo ospite del podcast vabbè comunque guardatevi il documentario sul Diabolica su Prime Video e vabbè questa parte la teniamo la teniamo tanto sono cazzi miei Harry Pass io sto zitta io ti guardo io pure non ho capito se può consolarti non lo sto seguendo io ho sentito solo che si sente in colpa di aver detto una cosa ma non ho capito cosa io annuisco ma che secondo me c'è una voce grazie al Diabolica c'erano i vocalist di 18 anni di tutta Italia che facevano la voce picciata si esatto un po' no effemminata perché Harry Pass e Lu Bellucci le hai avuto a ridire di Diabolica facevano si si la ripeto e anzi ne approfitto per invitare Harry Pass a venire a fare il podcast questo non ho paura non ho paura di aver detto ma erano persone effemminate queste qui non erano persone effemminate però erano allora Harry Pass non sei molto preciso nella descrizione Harry Pass non so ma imitala con la voce no questo questo non me la sento questo non me la sento però Harry Pass si presentava in drag e faceva la voce che non era la sua voce di tutti i giorni la voce del lavoro quando si presentava in drag che era una voce drag ecco e quindi anche 18 anni aquilani che tutto erano tranne che drag facevano quella voce perché gli sembrava che così facessero i vocalist e secondo me è una cosa bellissima e va bene anche questa l'abbiamo fatta anche questa l'abbiamo detta Stefano io andrei avanti con questa puntata anche perché vi siete preparati mi avete detto sì ci siamo preparati certo no allora in realtà volevamo iniziare però è una domanda un po' banale adesso ringraziate stai venuta qua anche perché io ti immagino stanca perché tu vieni dalla settimana sacra dell'intrattenimento italiano tu ti sei sparata Sanremo tutto Sanremo tutto Prima Festival e poi comunque anche il mondo di Sanremo come è andata è bello fare questo perché abbiamo avuto Bugo qualche tempo fa e abbiamo detto è bello fare Sanremo ti faccio la stessa domanda e lui cos'ha risposto prima lui ha detto sì in realtà ha detto sì poi ha dato una risposta molto complessa e articolata nel senso lui abbiamo chiesto come era stato lui ha vissuto l'India cinque anni come è stato vivere l'India cinque anni io non uscivo stavo a casa non uscivo cioè quindi se l'ha vissuta un po' a modo suo le testimonianze di Bugo sono diciamo abbastanza un po' fumose un po' sue ah un po' sue comunque è interessante Sanremo è un mondo a parte totalmente nel senso tu vedi le persone che incontri a Roma e quando le incontri dici no 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 e accelere il passo per non doverle salutare quando le incontri a Sanremo invece hai piacere non so che cosa succede ma vai a prendere i caffè con persone che poi quando tornerai a Roma eviterai stai parlando di nuovo di Lundini vero? ma ti capisco ti capisco di Valerio sto parlando di Lundini però è tutto è tutto concentrato pensa ci sono tutte le televisioni d'Italia anche un po' del mondo e tutti pensano che che chiunque è famoso quindi se tu vai a Sanremo ti senti boh ti senti JLo perché non sanno chi sei cioè quando tu passi io scendevo dalla macchina davanti andavo a fare delle interviste in tante radio andavo lì facevo promozione al Prima Festival io scendevo dalla macchina e c'era la gente che si accalcava addosso a me e diceva io non canto non canto non so cantare allora ragionavano un attimo si svegliavano uscivano da queste ipnosi Sanremese e mi mettevano a fuoco poi capivano che ero quella del Prima Festival allora ancora foto però è un po' quella roba lì ma a Sanremo c'è anche gli autografi cioè ti chiedono l'autografo sì i bambini ti chiedono l'autografi veramente è bellissimo i bambini io ci sono i bambini che vogliono ancora gli autografi nei quadernini e tu devi fare la firma eccetera eccetera e invece vabbè tutti gli altri la foto i selfie però gli autografi pensa il primo gli ultimi autografi che ho firmato poi sono arrivati i telefonini erano nelle Filippine quando ho fatto la mia tournée nelle Filippine sono una cantante nelle Filippine famosa come Madonna e non è una battuta te lo giuro sono andata sono arrivata nelle Filippine e ho cominciato a fare la tournée promozionale e facevo insomma il firma copie del disco immagina i nomi filippini quindi c'era in fila e adesso io non sto veramente prendendo in giro vi giuro cioè è proprio che sono nomi diversi con accenti diversi con slang diversi una cosa as milova e come e cominciavo a scrivere no 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 e ho bisogno di aiuto per qualcuno che ti spieghi come si scrive as milova quindi quindi c'era l'interprete che ti serviva solo per solo per gli autografi a questo punto ho una domanda che ti devo fare come si diventa famose come Madonna nelle Filippine perché non è che proprio da un giorno all'altro fai uscire una traccia e Manila esplode per te vedi che non mi siete preparati io lo sapevo perché molti questi non la trovano infatti in realtà volevamo dirti tu non so cantare invece no tu no no io faccio cagare a cantare ma però cioè vabbè ma c'è tutta la gente che canta bene fa i dischi non mi pare giusto questa è una stoccata non facciamo nomi però mi pare che torniamo sull'Undini sei venuta sei venuta a fare la guerra a Valerio e a me questo va benissimo ti giuro amo no allora nelle Filippine invece anche se non sai cantare dici no allora in Latino America andò molto forte Tiziano Ferro ai tempi quindi hanno detto produciamo più possibile italiani in Latino America vennero a Milano io facevo Match Music conducevo un programma su Match Music e so parlare perfettamente spagnolo perché mia zia è argentina quindi una cosa un'altra mi hanno contattato ho accettato perché mi hanno detto guarda non ti preoccupare in Italia non uscirà mai niente anche perché io non so cantare quindi io non ti preoccupare è tutto ti picciamo la voce te la puliamo uscirai soltanto in Latino America io bomba quindi faccio i viaggi in Latino America mi ero già immaginata dall'altra parte del mondo e qui pulitissima proprio fedina penale pulita firmo con un'altra ragazza facciamo questo duo incidiamo i pezzi andiamo a Miami siamo tipo 12 giorni a Miami facciamo il videoclip cose insomma Latino Emi Latina la stessa che produceva Tiziano Ferro cioè investono un sacco di soldi su questo progetto e faccio lo spot Heineken quindi le Pussycat Dolls lo fanno per l'America e io invece faccio lo spot Heineken per il Latino America c'è la mia voce che insomma che canta non io fisicamente la mia voce però in quel momento l'Emi Latina chiude cioè ha una crisi pazzesca quindi si ritrova cioè chi è svenuto in sala? il CEO di Emi Latina esatto non dovevo dirla questa cosa però mentre chiude questi si ritrovano con un investimento economico enorme per un duo latino-americano nelle Filippine non lo sanno tutti ma hanno una base spagnola incredibile quindi che fanno? dicono andiamo nelle Filippine ma come ci andiamo? vado a fare vacanze di Natale Filippino ma che stai dicendo? ma che cazzo stai dicendo? voi mi avete chiesto cose che non ho mai raccontato io vi ho detto state tranquilli ve le racconto vado a fare vacanze di Natale Filippino con lo scamarcio filippino che si chiama Dennis Strillo che lo salutiamo che dovrebbe venire in ospita al podcast tra un paio di puntate loro non sanno che Dennis Strillo Strillo aveva un senso in italiano vabbè questa è una cosa mia fingiamo di essere fidanzati ma lui era fidanzato col produttore però aveva un po' nelle Filippine però non no però lui voleva far vedere perché uscivano nei giornali insomma nelle Filippine ma lui è filippino tutti filippini io ero l'unica italiana tutti filippini però mi offrono questa parte della moglie di Dennis Strillo dello scamarcio filippino che muore io ero morta apparivo in sogno a lui in continuazione in parti nostre quando eravamo felici e la fine del film sono io che mentre lui è con le mie ceneri però vi sto spoilerando la fine vado avanti lo stesso vi rovino la fine lui con le mie ceneri dentro il vaso sugli scogli di questo mare che mi dice una frase in filippino che ai tempi sapevo pure accennare due cosine adesso mi ricordo io vado dietro di lui da fantasma ovviamente quindi col vestito da sposa aiuto lui a svuotare le ceneri del mio corpo e lo lascio andare quindi tipo ghost sei filippino con la terracotta con le ceneri con le ceneri cadavere bellissimo e quindi è uscito il film con me ho fatto promozione nel frattempo usciva il disco e anni dopo andai a lavarmi i capelli in un posto in un parrucchiere a Bologna tra l'altro molto bravo Dado si chiama e c'era questa ragazza filippina che avevano appena assunta e mi lavava la testa e mi guardava così ma tu non sei morta e io mi sentivo ma erano passati anni e così e io dicevo tutto a posto ti posso chiedere una cosa ma tu eri la fidanzata di Dennis Trillo vedi bellissimo stupendo ma aspetta come si ha questo film si trova si trova si si trova però loro sbagliate dato che io non capivo i loro nomi anche loro non capivano il mio nome hanno sbagliato a scrivere il mio nome e come ti chiami col cazzo che te lo dico però io ce l'ho ce l'hai? l'hai rivisto? com'è avvenuto benissimo? discutibile discutibile stupendo quindi qui sei un'attrice famosa nelle filippine ormai non più purtroppo penso che il tempo sia passato penso però che se torni adesso fai le riconquisti subito dovrei andare alle meteore filippine se c'è un programma simile l'isola dei famosi filippino terraferma dei famosi si chiama livello alto questa mi è piaciuta non è per tutti hanno riso in più su questa bella e quindi invece no la canzone a me piace molto che vi ho un po' sconvolto questa cosa questa cosa è bellissima io lo voglio vedere questo film no la canzone l'hanno poi cioè il disco l'hanno fatto uscire insieme al film nelle filippine per cercare di ottimizzare la spesa e ho cantato nella finale di MMA perché lo sport nazionale è MMA nelle filippine io ho cantato proprio a metà di questa finale in insomma nazionalmente nelle filippine non so come si dice però ero a rete unificate mentre cantavo il pezzo suave e suave c'era il sangue e pezzi di denti dentro questa gabbia morbida e tu nell'octagon stai là e io io mi attaccavo un po' alla rete perché mi faceva tutto un po' schifo perché si dice oh i tacchi certo però anche aggrapparsi alla rete è molto suave come cosa ci sta giusto giusto la vera professionista ma dopo questo di che cosa altro vogliamo parlare in effetti ma perché ma perché hai smesso perché non sei perché sono fortissimo nelle filippine perché non perché non hai continuato allora scusate ho sete perché fa molto caldo qua dentro fa caldissimo visto mamma mia siamo molto orgogliosi della temperatura interna di snodo durante il tentorio io ho smesso perché mi vergognavo ora è vero che ho la faccia come il culo non mi vergogno di niente anzi a volte io ho un ufficio stampa e degli agenti perché mi devono impedire di fare le cose non per farmi fare le cose infatti non sanno che sono qua questo è un po' sono un po' le filippine diciamo nessuno lo scopriranno poi e io dirò ma ve l'avevo detto questa la devi tagliare perché sennò poi sono fregata va bene noi tagliamo tutto quanto tranne le filippine tranne le filippine la puntata short sono le filippine no e abbiamo fatto uscire io ho smesso di cantare perché perché dai ragazzi cioè va bene io volevo fare altro a me non mi interessava di cantare però è una bella esperienza sta due anni intensi quando ho abbandonato il gruppo ci sono rimasti male perché sono uscita un po' prima quindi poi il gruppo si è spento ma eravate due? sì però c'erano tutti dei produttori c'erano anche una ragazza che ci portava a fare shopping ho capito dopo che erano i miei soldi certo cioè spendeva il produttore ma poi me li scalava averlo saputo non avrei comprato niente eh sì te fregano così ma i produttori nelle filippine sono così sono così ma l'altra ragazza invece che faceva parte della band ha fatto cento vetrine ah quindi è andata a crescere bene sì ha fatto cento vetrine fa l'attrice certo mai come quella volta nelle filippine non ho più avuto quel brivido filippine c'era veramente c'era c'erano dieci telegiornali all'aeroporto a aspettarci cosa che io non sapevo stupendo e non ti è mai venuta la curiosità di dire una volta torno in vacanza alle filippine adesso e vediamo che succede no no forse è giusto così però ti ettelo tipo fra vent'anni dici vediamo come piano c dici oh se tutto va male si va alle filippine torno nelle filippine I'm back volvei non so parlare spagnolo come lì si vive bene guarda allora ovviamente noi siamo state trattate da superstar quindi hotel di altissimo livello eccetera eccetera però la vedi la differenza c'erano famiglie che dormivano si lavavano sotto i ponti era una cosa normale bambini di uno o due anni lavati nelle pozzanghere questa cosa l'ho vista però la vedi negli occhi delle persone che non c'è una reattività quella cosa è così e non c'è niente da fare funziona la differenza è quella poi tra l'altro mi ricordo che quando siamo andati via abbiamo pagato il conto nell'hotel delle chiamate del frigo bar e in dollari adesso non mi ricordo se era in dollari insomma comunque fai 100 euro abbiamo pagato quando ce lo dissero il concierge ci disse 100 euro o 100 dollari la persona che ci accompagnava in giro sbiancò cioè come se e poi ho capito che era tipo cioè non dico uno stipendio cioè uno stipendio annuale ma poco ci mancava no non si vive bene cioè stai bene se stai bene però la vita insomma bisogna combatterla ho abbassato il livello di divertimento? no 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 tanto loro lo sanno che appunto questo podcast è per noi non è per loro loro sono un ostacolo principalmente sì sì allora volevo vai Stefano no torniamo su Sanremo quindi vabbè hai fatto questo come ti è sembrato quest'anno il festival eh il festival ormai non è un evento di spettacolo è un evento nazionale cioè un evento nazionale a parte che c'è Mattarella e quindi questa cosa la sancita definitivamente ma veramente anche prima che uscisse la notizia con la preparazione dei fuochi di tutta la stampa del mondo intero non c'è non c'è Sanremo è partito parlo di quando è iniziato quindi bianco e nero eccetera eccetera e piano piano poi si era imposto come la più grande chermescanora del mondo quindi tutto il mondo veramente tutto il mondo conosce Sanremo e poi si era spento con la frammentazione con la frammentazione della televisione Sanremo aveva perso perché tutti potevamo trovare ovunque ma come adesso invece Amadeus ragazzi Amadeus conosce la musica conosce i gusti nel senso anche se magari a lui non piace un pezzo ma sa che piace lo prende invece molti direttori artistici hanno raccontato il loro Sanremo al pubblico televisivo se tu parli solo al pubblico televisivo in un contesto così grande per forza vai a perdere perché chi segue Sanremo è un pubblico anche musicale e Amadeus è stato geniale l'ha ripreso ma anche Carlo Conti prima e Claudio Baglioni cioè questi tre che sono arrivati pam 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 hanno fatto un lavoro e Amadeus l'ha sancito adesso d'ora in poi Sanremo sarà insomma l'evento più potente di tutta Italia ma anche d'Europa però forse è un po' lungo se posso allora dovevi dire a me immagino tu lo puoi vedere per forza io l'ho visto tutto fino alla fine alle due e la finale è chiusa alle tre e tre minuti ma tu potevi stare a parte la finale che sei seguita sul palco però dico gli altri giorni potevi entrare oppure no sei pazzo sai quanto costa entrare lì dentro non ti fanno un ridotto durante il giorno il tuo pass vale come si chiamava quel cartone giapponese dove erano questi tre samurai col signore un po' anziano che tiravi fuori loro tiravano fuori a un certo punto come? lo shogun mitsugun imico non ho detto delle cose shogun mico stai non lo conosci? no mamma mia non ho capito cos'è lo shogun mitsugun imico lo shogun mitsugun imico comunque è così tu a Sanremo col pass vinci su tutto non devi avere un documento tu hai il pass tu se qualcuno ti manca di rispetto ti puoi dare uno schiaffo se hai il pass devi stare zitto questo lo dici perché l'hai fatto varie volte certo quasi sempre sull'unico puoi anche non pagare nei bar hai il pass vorrei chiedere questa cosa ai baristi se sono d'accordo con questa beh no quando appena parte alle 21 il festival il tuo pass si volatilizza e torni a essere un coglione qualsiasi e quindi devi sei fuori cioè se non hai quel biglietto che costa fino a 1500 euro insomma non so fino a che punto è arrivato tu non puoi entrare sono entrata alla semifinale cioè avevo il posto alla semifinale ma il problema dei posti a Sanremo è che tutti vorrebbero stare lì dentro dentro l'Ariston a vedere anche a essere ripresi perché poi ci sono le telecamere che ti riprendono e io appena mi alzavo per andare a salutare una persona o andare in bagno mi giravo e c'era c'era ti rubano il posto una roba impressionante e poi tutte le volte si guarda scusi questo ah no pensavo fosse andata via mi sono andata solo a fare pipì cioè i posti non sono assegnati numerati però se tu ti alzi ci sono quelli che ti rubano i posti io ero a terza fila quindi ero sotto il palco e la cosa che mi chiedo io sempre ti puoi alzare quando vuoi per fare pipì o devi aspettare le pubblicità se vuoi morire sì alzati quando vuoi perché ti dicono guarda in terza fila te devi stare inchiodata qua ti danno un catino se vedono che fai così che spingi un po' con le braccia per alzarti ti appare un lumino rosso sulla fronte immagino non puoi alzarti io non potrei io non riesco a fare una puntata del podcast senza andare in bagno pensa a una puntata di Sanremo e no e poi ti arriva ti portano l'acqua sì io avevo le barrette quindi tieni ma quelli che si siedono sono quelli che stanno tipo in piedi apposta per occupare i posti sì ma a me il posto lo rubava non dirò mai il nome un'altra persona che voleva stare lì per per un po' di luce sempre Lundini è Lundini ok ok Lundini lo fa lo so lo fa quindi vabbè c'era qualcuno che ti però dove stava se ti rubava il posto stava stava nei posti in fondo ah ok perché quelli ci sono dei posti in cui non vedi niente perché non è un teatro normale quel giorno cioè quei giorni l'Ariston è strutturato per essere un teatro televisivo quindi è meraviglioso ma quest'anno il palco era davvero impressionante lo dico seriamente cioè ne ho visti dei palchi quella roba era incredibile e quindi se tu sei tanto tanto squintato ma di così tu così vedi il palco così che mi sposto di due centimetri non vedi più niente sì poi magari non vedi in cima alla scala cioè magari da dietro vedi poco e niente e quindi giustamente la legge della giungla appena ti alzi sei fottuto tremendo quindi forse è meglio non stare perché io mi immagino farsi tutte le puntate di Sanremo là dentro non finisce mai il direttore Coletta si fa tutte le puntate dalla prima all'ultima però almeno tu vedi quello che hai messo su giusto giusto però diciamo che se sei pure cioè la Rai su Sanremo dice qui è il nostro momento cioè è il caso di presenziare il più possibile e di di mettere una pubblicità in più e questa è una piccola polemica che mi sento di fare con la Rai che poi taglierò perché ho bisogno di lavorare quindi solo per il pubblico dal vivo mentre invece stare no no vai vai sei scatenato sono felicissimo no sto fando male normale oggi sto a fare una cosa normale che vuoi stare sul palco invece cioè com'è rispetto a stare seduto ma sul palco di Sanremo si guarda scendere le scale hai presente che tutti dicono che sono molto ripide poi dipende da scenografia a scenografia queste scale erano comodissime potevo correrle steccata boom no però erano comode poi allora il fatto è che nel senso io faccio io voglio fare la conduttrice sono una conduttrice vivo di televisione perché mi piace proprio cioè io l'ho scelto questo lavoro cioè il linguaggio televisivo è quello che amo di più al mondo poi può essere bistrattato fa cagare la gente non piace la televisione è cambiata tutto quello che volete ma tutti ne parliamo della televisione è più grande mezzo di comunicazione più della carta stampata perché è più facile quindi la televisione farla è bellissimo e quando hai un'occasione così incredibile ma non tanto di occupare dello spazio in un contesto forse uno dei contesti più importanti che c'è in Italia ma anche in Europa che è quello di avere quei 4-5 minuti lì non è quello il punto il punto è sentire quello che succede su quel palco in quel momento dove con le luci non vedi il pubblico perché sapete quando siete sul palco voi non vedete il pubblico perché qui perché siete illuminati voi ma in realtà quando sei sul palco hai le luci puntate addosso quindi tu sei totalmente cieco e senti le telecamere addosso con l'orchestra e quella è stata un'emozione stupenda cioè senti proprio lo spettacolo perché tutti in quel momento stanno vedendo quello spettacolo lo senti non so come ormai abbiamo la percezione che quello è lo spettacolo più importante che abbiamo però tu mi dicevi prima che non hai ansia quando fai questo tipo di cosa non possiedo non ho la fortuna di avere paura purtroppo sembra una cosa figa ma non è una cosa figa è un comunque è un problema di non non avere il la paura di performare non ce l'ho mai avuta neanche da bambina che non vuol dire non avere timore o faccia da culo nel senso se non andrei mai in giro che ne so no farei tutto no scusa no 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 stavo cercando una cosa ma però comunque non ce l'ho non ho timore anche perché non è che mi può succedere niente la paura di esibirsi o di stare su un palco per me non esiste perché io so che sono più sicura su un palco è più difficile che mi ammazzino su un palco che sotto questo questo è vero di bene effetti se guardiamo le statistiche nazionali e internazionali probabilmente gli omicidi avvengono sotto al palco è quello no io mi sento sicurissima su un palco quindi non ho zero di niente anche quindi le scale quando le hai viste hai detto no sono sicuramente figata che bomba e poi quando sei in un contesto in quel momento è casa di Amadeus è uno spettacolo che ha costruito lui con gli autori quindi ha il suo ritmo quello che devi fare ed ero con Già di Cecchetto che è comunque figlio molto capace di cotanto padre perché comunque lui ha un linguaggio web vabbè voi lo immagino conoscerete molto famoso sui social siamo stati al ritmo del conduttore quindi non poteva succedermi niente cioè gestiva tutto Amadeus facendoci giocare che cosa l'unica cosa che mi ha fatto incazzare è che finite le scale più importanti della mia carriera perché altre scale così importanti oltre alle Filippine non ne ho scese e oh sono tornata in camerino per prendere il cellulare e aspettare sai la sbardellata di numeri di messaggi di tutti i miei genitori parenti ex amanti maritiche ex maritiche che si pentono eccetera eccetera o c'era c'era il messaggio del mio ragazzo uno e uno di mia madre tutto il resto vuoto ho fatto cagare forse c'era la pubblicità me ne sono accorta ti hanno mandato durante la pubblicità vieni 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 adesso vieni adesso bravissima guarda come scende la scale a mio padre l'ho chiamato il giornalato papà scusa ma non hai visto ah no amore brava brava non ti volevo disturbare ah mia sorella eh amore io sono crollata adesso ti vedo su replay mi richiama amore sto guardando su replay madame è proprio brava sono dopo no no poi ti richiamo però intanto ti voglio dire che madame è brava quindi la cosa positiva è che grazie alla mia famiglia avrò sempre i piedi per terra ma vado in analisi giusto la famiglia ideale piedi per terra e analisi traumi certo ma vai vai allora questa cosa Amadeus è un conduttore che effettivamente fa andare tutto al suo ritmo e ha dato la sua impronta anche musicale perché ne avevamo parlato anche con altri ospiti e lui che effettivamente anche attraverso lui passa la selezione dei pezzi e adesso dopo questo festival avevo letto alcune cose alcuni editoriali che dicevano Andrea De Dovo dovrebbe condurre il festival di Sanremo ti piacerebbe condurre Sanremo? sicuramente non a quest'età no? ci devi arrivare a prenderti una responsabilità del genere ragazzi saremo e poi la cosa che mi fa ridere è che in realtà appena si arriva in zona ottobre in Italia ogni intervista che ti fanno qualsiasi giornale è non in che progetto hai sputato sangue oppure il tuo libro sta diventando una serie oppure che cavo ne so hai hai imposto le mani e hai salvato due bambini no è ti piacerebbe fare Sanremo? grazie al cazzo sì ma che domande sono ma che domande sono ma io dico ma c'è uno studio dietro a parte questo la cosa che per andare a fare Sanremo Sanremo da direttore artistico e conduttore tu devi avere un pubblico che ti conosce si fida di te sa esattamente chi sei e il tuo linguaggio cioè bisogna arrivarci fino là non è facile non è scontato Sanremo è una macchina che se sbaglia fa perdere milioni di euro chiedimi vuoi far perdere milioni di euro? vuoi rischiare di far perdere milioni di euro? vuoi rischiare di far perdere milioni di euro? sì ma non adesso ma non adesso una decina d'anni tanto li porto bene i miei 40 li porti benissimo quindi tra una decina d'anni Sanremo 15 15 no 10 8 tra 10 anni come lo vedi il tuo Sanremo? cioè come te lo immagini? copio quello di Amadeus copio quello di Amadeus identico io lo prendo e chiamo gli stessi cantanti paro paro quelli di quest'anno quelli di quest'anno anche i cugini di campagna tutto ragazzi non cambio niente forse è riscendo io anche per salutare me stessa quindi fai anche una cosa Gino Paoli se ci senti capito è quello il problema sei un mostro hai detto 10 anni 15 anni quanti anni c'ha Gino? sei un mostro no Gino no che poi questa la dobbiamo tagliare la dobbiamo tagliare che il cielo in una stanza la canzone più bella della storia della musica starei male se qualcosa accadesse a Ginone magari invece qualcun altro magari uno dei pischelli può essere può essere tutto quindi non hai mai pensato Sanremo non Sanremo diverso come lo farei ma perché perché se funziona così a me stanno sul cazzo quelli che una cosa funziona e devono andare e fare la loro ma fare da un'altra parte no? comunque se tu hai un'idea ed è buona la trovi chi ti investe guarda qua avete trovato chi ha messo i soldi? ci avete comprato una villa? un'utilitaria? beh ci abbiamo comprato guarda se vuoi dopo ti faccio dello sgabbello esatto lo sgabbello nuovo abbiamo comprato uno sgabbello da metterlo qua però se cioè se qualcosa funziona ma funziona sempre e bene ma che ci vuoi fare dai giusto senti ma allora tu fai la conduttrice ti piace è quello che volevi fare ho letto pure in un'intervista non c'è un piano B è sempre stato il tuo piano A però perché questo è sempre stato il tuo piano A cioè da dove ti viene questa voglia di condurre in televisione che cosa che cosa ti guardavi e soprattutto la domanda che facciamo essendo tu diciamo nata e cresciuta in comunità ti guardavi tanta televisione a San Patrignano e in caso cosa ti guardavi allora a San Patrignano in realtà non guardavamo tanta televisione guardavamo tantissimi programmi di Arbore e Buona Domenica quello proprio e tanti film io ho visto un sacco di film ma proprio al cinema film che a mia età difficilmente avrei visto io l'ho visto al cinema perché si guardava la televisione tutti insieme in un teatro come questo più grande due volte questo ma non sapete mettere bicchieri no sono tremendi ti ho detto sono un ostacolo alla riuscita del podcast questo era Gino Paoli comunque a San Patrignano c'era un teatro che era il doppio più o meno di questo e si guardava la televisione tutti insieme quindi io non ho avuto accesso alla televisione in generale ma ai programmi ben precisi che erano i programmi di intrattenimento quando sono uscita da San Patrignano non ho fatto amicizia subito anzi in realtà ho fatto amicizia molto tardi con le persone quindi stavo tanto chiuso in casa a guardare la televisione e ho imparato a parlare un italiano pulito dalla televisione perché ai tempi se tu non avevi un italiano preciso pulito non potevi fare televisione era una regola quindi la televisione per me è stata proprio importante mi ha dato tanti spunti di riflessione e in realtà voglio fare televisione ho sempre voluto fare questo di lavoro la conduzione che sia televisione sia su un palco mi piace parlare perché ho un ego smisurato cioè non è che c'è un'altra soluzione mi piace piacere mi piace essere guardata mi piace non mi piace rivedermi non mi rivedo mai perché se sbaglio qualcosa lo sento quindi è inutile che vada a rivedermi perché mi umilio da sola quindi poi lo correggo dopo però è proprio bello e soprattutto nessuno mi può uccidere su un palco questa è la cosa più importante mi pare di capire a maggior ragione ho avuto una diretta televisiva dice oh qua sono invulnerabile poi al massimo dopo dopo però la tv ti fa esistere so come la tv ti fa esistere ti fa esisti nel momento in cui lo fai cioè ti senti che esisti nel momento in cui lo fai come però il teatro l'ho scoperto molto dopo il teatro che ti fa esistere però la televisione di vantaggio è che fai una volta quella cosa il teatro devi rifarla adesso 41 volte è fatta è pesante però esiste anche sul palco tu però quindi preferisci fare la televisione rispetto al teatro no al teatro mi piace farlo perché viaggio mi faccio weekend fuori a spese del teatro ah ok ma riesci a farteli weekend fuori di brutto io arrivo prima mi vedo tutti sono dei paesini stupendi l'Italia è meravigliosa vedo tutti i paesini mangio nei ristoranti del luogo vado a fare lo spettacolo due chiacchiere con le persone che vengono e poi vado a fare la cena e a dormire ma ragazzi è una pacchia ma averlo saputo prima ma sai come lo facevo prima la tournée ma non ho capito un cazzo della vita io ah vedi noi ce la vediamo peggio non ce la vediamo ma però alla fine pure noi facciamo così fai nei posti mangi vedi le cose eh vabbè però mangi cioè noi arriviamo io almeno io arrivo poco prima dello spettacolo no vai prima ma scusa ma vai prima ma noi giriamo su dei treni regionali pure io io vado in treno regionale non vado mi hanno dato l'autista perché sapete posso permettermi anche l'autista let's go me l'hanno dato ma l'ho rifiutato perché la stessa tratta con l'autista ci metteva tipo due ore e mezza col treno un'ora e dieci ho detto ma voi siete scemi ho preso il mio bel regionale valigia fidanzato siamo scesi la pacchia no sì come io pure cerco di fargli così le date del tour tranne quando mi ritrovo da solo però pure da solo è bello non so se ti è capitato da solo io mi ricordo una mattina di febbraio da mangiare pasticcini da solo davanti al Duomo di Messina che comunque quando ti ricapita di stare là a mangiare le paste davanti a la tournée è bellissima sì la tournée io sono sono veramente fediciotta sto ingrassando però ma solo io me la vivo male insomma questo è un camion che io faccio lo spettacolo poi mangio un paninaccio tipo alle due di notte perché finisce così dormo e poi mi sveglio no ma vai da solo o con la fidanzata no da solo vabbè vabbè dice quello vabbè il problema portati qualcuno che ti stia vicino e poi però se si annoia poi sto sempre a vedere lo stesso spettacolo si annoia lui o lei mica te ah dice tutto sta bontà è vero che il fidanzato o la fidanzata si annoiano che devono rivedere lo stesso spettacolo e stanno a fare io ho visto 52 concerti di Negramaro ero fidanzato col tastierista ho il vomito eh sì è giusto e poi dopo si devono pure sentire te che fai ma sai che quella cosa non è andata bene e loro dicono no no invece sei stata brava e tu no ho fatto cagare io dico sempre sei bello pazzesco io ho ricominciato ad andare ai concerti dopo un paio d'anni che era finita con lui hai concerti di Negramaro in generale ok anche Negramaro infatti siamo rimasti troppo amici quindi ah c'è proprio la nausea dei concerti dei concerti eh vabbè giusto immagino dopo un po' tanti eh stai là in piedi la musica ma infatti a mio ragazzo io dico sempre non venire a vedere lo spettacolo anche perché lui lo sa a memoria io quando non mi ricordo una cosa me la dice lui eh però si diverte per il momento ingenuo infatti meglio buon per lui oh buon per lui comunque diciamo pure che siamo dei professionisti e quindi i biglietti dello spettacolo del tour sono disponibili su Viva Ticket anche Ticket One anche Ticket One allora andate sul mio profilo Instagram e c'è in link in bio c'è insomma il link per comprare i biglietti perfetto eppure questo l'abbiamo fatto però sì no 40 e sto il titolo 40 e sto il titolo e come ti piace cioè come te lo sai perché tu avevi già fatto con mio ex marito ma tuoi ci siamo lasciati lo spettacolo è finito lo spettacolo è finito eccolo ex marito Francesco e questo qua invece è il tuo sei tu sul palco sì sì allora lo spettacolo in due era molto divertente però era uno spettacolo cioè era divertente farlo andare in giro la tournée che dicevamo prima però era uno spettacolo molto violento moriva gente cosa che io apprezzo perché io scrivo io ho scritto dei libri fra l'altro molto belli dove muore un sacco di gente a me piace uccidere la gente nei li mi sfogo le mie frustrazioni le metto nei libri e quindi avevo accettato questo spettacolo dove insomma c'era del sangue devo dire che è un pochino più divertente fare questo che fa ridere che è una commedia sono io sul palco che cazzeggio racconto le mie sfighe innamore dei quarantenni partiti dagli anni ottanta che ti senti ti senti meno male cioè non so gli attori sono veramente da rispettare perché se interpretano uno spettacolo dove devono stare male loro devono stare male sul palco quindi loro per 65 repliche devono stare male quella sera non li pagheranno mai abbastanza e tu stai male sul palco? no perché questo spettacolo è easy è da ridere è un po' è un po' un racconto di come ci si arriva a quarant'anni single si può dire che tu stia facendo un tour di stand-up comedy? no 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 sciacquati la bocca quando dici queste cose perché ti senti offesa che io ti abbia accostato alla stand-up comedy no ma stand-up comedy è una cosa difficilissima stand-up comedy non hai niente io ho un sacco di protezioni ho i video ho le canzoni ho delle cose sparse sul tavolo che non sono le vostre bottigliette di merda il vostro microfono che tenete lì infatti qua bevete prima bevete prima perché dovete bere durante e questo è la cosa che mi ha fatto più male di tutto l'attacco al dissetarsi sul palco comunque no io ho un sacco di cose di protezione io non non reggo una stand-up perché è diversa è proprio un linguaggio più violento meno male più violento che vai diretta ci sono delle parti in cui interagisco col pubblico ma no no è un'altra cosa è un ibrido insomma venite a vederlo spendete questi 20 euro ma sì andate a vederlo andiamo non muore nessuno sul palco non muore nessuno sul palco finché sto sul palco non mi ammazzo non possiamo andare possiamo andare questa è la cosa più e comunque quindi cioè però preferisci stare fare una cosa al di là del del viaggiare proprio stare sul palco con un pubblico davanti lo preferisci o preferisci invece quando c'è la telecamera semplicemente che fai una trasmissione cioè è più naturale per te no in realtà tutte e due sono naturali nello stesso modo perché io conosco bene la telecamera so esattamente come essere ripresa è uno studio ragazzi faccio questo da 20 anni so che in quella camera a parte che prende più te questa cosa un po' mi offende perché questa è la parte mia più bella e vabbè quindi io avrò questo primo piano porca puttana ma facciamo licenziare qualcuno ragazzi no io sono un mostro da questa parte la parte destra mia è terribile io devo stare sempre adesso guarderò sempre Rapone visto di qua perfetto vai falla così ho sbagliato tutto puntata sulla tua faccia però cioè conoscendo molto bene lo studio è un po' come un po' come un gioco è Tetris lo studio televisivo è divertentissimo perché appena c'è la diretta succede qualsiasi cosa e tu sei la persona che deve far accadere le cose o deve fare in modo che la gente non si accorga che stiano accadendo ed è veramente come giochi senza frontiere però hai i tacchi ed è stupendo ed è divertente cioè fare televisione è proprio divertente anche quando fai televisione dove ti siedi una di fronte all'altra e fai comunque un'intervista perché un'intervista magari emotiva più profonda perché quelle quelle interviste emotiva più profonda è difficilissima con le telecamere tu devi riuscire a fare in modo che la persona che ti sta rilasciando quell'intervista si senta abbastanza sicura in un contesto pieno di gente con un sacco di telecamere puntate con dei rumori quello che mangia quello che sta parlando con la figlia che non è andata a scuola eccetera e ti deve dire che ne so ha rubato 200.000 euro e se ne pente oppure che ha fatto le corna alla moglie quello è un gioco è un gioco importante che a me piace da impazzire e invece il teatro è più un ping pong con la gente è sempre molto bello molto divertente però è proprio il teatro se non c'è reattività cazzo lo spettacolo muore io ho fatto per il momento di questa tournée ho fatto 25 date 24 pazzesche una era un teatro molto particolare era un ex locale da discoteca quindi sedie molto lontane freddissimo tutti coi cappotti perché si è rotto il scaldamento e il palco mi sto giustificando e il palco la metà di quello che doveva essere oh si perdeva tutto mi sentivo morire avrei preferito mi ammazzassero sul palco posso chiederti che città era non te lo dirò mai te lo dico dopo dopo sì che magari può essere che ci sono ma io ho tirato dritto pensando ai miei anni da vocalist quando comunque la gente non viene per te ma viene per o il dj o bere o farsi la persona che le piace e quindi nessuno ti caga ho tirato dritto così testa alta bellissimo sono molto contento di aver sentito questa esperienza di palco andata male perché poi non muore nessuno sul palco però in quei momenti dici effettivamente siamo lì lì un po' avrei preferito mi picchiassero poi però la cosa assurda che finito lo spettacolo tu ti infila a salutarti a dirti bravo bravo ma testa di cazzo ma perché non hai fatto una risata un applauso il cerchio si stringe le regioni così non sono molte ne ho individuate un paio che è proprio questo è il comportamento tipico di certi popoli italiani ma adesso non puntiamo non puntiamo il dj vuoi dire nord o sud beh questo è un comportamento tipico del nord Italia di solito è un pubblico straordinario il nord Italia questo no e invece no e allora comunque e allora perché è il corrispettivo del sud della regione che avevo in mente no no vabbè ma è tutto chiaro potete lo dico potete lo dico va bene ma lì qui non c'avevi ansia neanche in quella situazione oppure un po' t'è presa in quel momento no niente tranquilla e che mi può succedere io avevo l'ansia per i debiti io solo ho avuto perché io fino a quattro anni fa ragazzi ero povera cinque anni fa sei anni fa cioè povera no però facevo fatica a pagare bollette affitto facevo veramente fatica comunque il lavoro che avevo dovevo incastrare le robe io sono l'ansia dei debiti e mia madre mi diceva ok tu non puoi pagare quelle due multe lì ti ammazzano no ti vengono a arrestare no quindi ah eh ok aspettano sì tanto poi al limite se avrai i soldi li pagherai con l'amore e tutto il resto solo per i debiti ho l'ansia ho necessità di non avere i debiti eh beh condivisibile no però un sacco di gente invece sguazza nei debiti sì sì dice oh vabbè che problema c'è però scusa adesso io solo da questa nostra conversazione ho intravisto un'altra ansia quella di essere ammazzata perché lo hai detto sette otto volte quindi ti volevo chiedere se se è una cosa a cui perché continui a dire sul palco non ti possono uccidere che sia forse questo il motivo per cui non torna nelle Filippine non ci poteva dire potrebbe essere questo no però è una cosa sul palco non ti possono uccidere però mi sento dire non ti uccideranno neanche sotto al palco siamo sicuri siamo nessuno può essere certo però è molto difficile quindi perché pensi questa cosa che sul palco non ti possono uccidere chi ti dovrebbe uccidere allora madonna sentiti con che maestria adesso abbasso tutto il livello delle risate sei pronto? prego crescendo in una comunità noi eravamo gli ultimi la nostra voce non si sentiva e quindi adesso a parte di scherzi veramente sono cresciuta in un posto dove eravamo un numero e quando uscivo dalla comunità per andare a scuola eravamo semplicemente ai bambini di San Patrignano oppure a quelli genitori tossici queste cose qua non avevo un nome veramente e tutti noi eravamo una cosa unica non c'era una voce anche quando poi magari avevi ragione ma anche quelli più grandi più adulti non avevi mai ragione perché la tua voce non aveva lo stesso peso e quando crescevo io dicevo ma scusate ho cominciato a ragionare perché poi la vedi la differenza fuori perché io uscivo a scuola poi tornavo in comunità dicevo ma scusate allora una persona le persone che vivevano a San Patrignano non erano tossici come vengono chiamate anche se la trovo molto volgare come dicitura come modo erano persone che si erano disintossicate ed erano lì in o riabilitazione oppure avevano deciso di fermarsi a vivere lì e comunque continuavano continuavano a chiamarli tossici un ex tossico ex tossico anche negli anni dopo anche una volta uscito quando tu sai che una persona è stata in comunità o ha fatto uso di stupefacenti per tanto tempo tu nella tua testa dici ex tossico se uno ruba una macchina tu non lo chiamerai mai ex ladro e comunque è più lungo cioè tossico è più lungo di ladro fai più fatica a finire ex tossico e non chiamerai mai un ex omicida cioè è una roba che che da piccolina dicevo ma come perché non mi tornava sai quando era illogica e solo il potere ti dà il peso della parola io ho cercato il potere il potere di esistere di avere una voce se mi succede qualcosa io faccio un tweet e succede un casino ma lo so funziona ho già fatto purtroppo ho fatto alcune cazzate perché poi non ti rendi conto di quanto potere ha la comunicazione dello spettacolo e questa cosa mi fa sentire tranquilla se qualcuno se qualcuno mi fa qualcosa di male oppure adesso attenta alla mia vita è esagerato però per scherzo oppure è disonesto con me sia fisicamente che emotivamente io fisicamente non so come potermi difendere adesso non parlo di faccia a faccia ma pubblicamente mi so difendere perché è brutto da dire ma se sei conosciuta famosa la tua voce ha più eco quindi io volevo essere conosciuta perché voglio che la gente si accorga se qualcuno mi fa del male bellissima risposta molto bella infatti però se posso visto che ci siamo preparati insomma noi abbiamo anche visto che tu puoi anche difenderti fisicamente perché sei tu sei cintura nera secondo dan secondo dan di karate sì e questo semplicemente perché mio padre quando siamo poi andati fuori dalla comunità e ho cominciato a crescere aveva visto che stavo diventando una bella ragazza e aveva quest'ansia del arrimini d'estate quest'ansia del non sapermi e sapeva che non poteva dirmi non puoi uscire di casa perché crescendo in comunità io sono cresciuta senza orari io tornavo a casa la sera stavo a giocare la sera tanto era tutta sicura quindi una volta andata a vivere a Rimini quindi in un paese diverso gli orari erano molto complicati da capire per me e quindi ho detto ok devi imparare a difenderti e mi hai iscritto a karate e il karate è uno sport meraviglioso uno perché non è vero che impari a difenderti una cazzata io non so menare cioè però so evitare so come evitare che mi menino che comunque è una roba mazza cioè io non so se qualcuno mi dà una sberla io chiamo la polizia non è che sto lì a difendermi questo è il karate questo è il karate questo te lo insegna questo è il secondo dan questo io non mi metto lì a fare a botte ma se comincio a fare tutte le mosse e mi dai una sberla ma ammazzo ma come costituzione sono troppo piccola poi ci sono quelli che fanno karate quelli più bravi strutturati più muscolosi per carità però ti insegna a gestire situazioni di difficoltà una volta mi puntarono una pistola addosso no due volte mi puntarono una pistola addosso una te l'hai riscordata diciamo questo quando poco fa parlavamo di chi ti deve ammazzare forse questi due episodi no però però in quel momento lì rimasi molto serena nel senso ok però questo fu il karate il karate che ti deve agitare che succede poi la cosa si risolse in modo pacifico era la stessa la stessa regione dello spettacolo si stringe ancora di più no allora una volta stavo mangiando con una mia amica in spiaggia arrivò questa persona molto su di giri estrasse questa no in realtà prese un marsupio tenendolo come se cioè con la mano dentro il marsupio dicendo c'è una pistola c'è una pistola puntandolo un po' a tutti chiedendo dei soldi e io lì pensavo ok questa cosa io non posso risolverla non so dove stanno i soldi e questo signore con la pistola sa esattamente che io non so dove stanno i soldi perché sto qua a mangiare quindi ho continuato a mangiare mi sembrava la cosa più intelligente da fare è arrivata la polizia ha risolto la situazione e poi non c'è una pistola nel marsupio e guarda ti posso dire era una possibilità che non ci fosse per quello anche io ho continuato a mangiare e la seconda volta ero in discoteca e c'era questo tipo sai di quelli che forse non hanno capito di non essere in un film molto molto particolari tipo quelli che dicono adesso balla e si sparano per i suoi piedi adesso bevi sono astemia devi bere no ma ti ringrazio sono astemia tira fuori la pistola e me la punta me la punta così ho detto che devi bere e io gli ho pensato ok ci sono due buttafuori accanto a lui praticamente siamo in in discoteca questa pistola oggettivamente era abbastanza finta c'era un 80% di possibilità fossero finte perché mio padre ha fatto la guardia del corpo quindi io ho imparato a montare e smontare le pistole quando ero piccolina era un gioco che facevamo insieme e so sparare molto bene e quindi e quindi avevo valutato la situazione e infatti poi la cosa finì che l'ho preso e lo buttarono fuori non ho bevuto la cosa più importante cioè comunque avete comunque aspettato 151 persone per invitarmi questa è la prima storia di pistole forse la storia di pistole forse è la nuova rubrica a cui tutti rispondono no non mi è mai successo non ti guardi non guarda non mi hai puntato una pistola no no mai quindi questo ha puntato la pistola contro tu hai fatto questo ragionamento il karate però me l'ha data questa possibilità di calmarmi nel momento del pericolo e dopo quanto sono arrivate le guardie erano lì accanto hanno visto questa cosa e l'hanno preso cioè fai 5-6 secondi ma invece tornando a tu che spari come è andata quella cosa cioè ha sparato allora mio padre facendo la guardia del corpo aveva giustamente delle armi da fuoco e per evitare che fossero uno spauracchio o che fossero qualcosa che io volevo poi toccare da piccola erano tutte chiuse nella cassaforte cioè nella cassaforte in questo armadio dove bisogna avere due chiavi per aprirle però mi ha insegnato che cosa fossero le armi perché stavano a casa quindi io in casa le vedevo in camera loro che c'era questo armadio con delle armi e penso che l'ha fatto la cosa più giusta perché non ho mai avuto interesse però mi ha insegnato a montarle smontarle la beretta soprattutto che era quella più facile per me stiamo spingendo forse delle cose che non dovrei dire sto capendo ora perché secondo me no sono piccola poi erano legali ce l'aveva al porto d'armi anche tu ce l'avevi comunque poi c'erano dove si andava a sparare tipo il poligono e andavo anch'io molto brava sono molto brava a sparare e ho testimone con il mio ragazzo che quando siamo andati per la prima volta al come si chiama dove ci sono i pagliacci al circo al circo a Luna Park quando siamo andati la prima volta a Luna Park lui ha provato a fare il figo con me con il fucile ad aria compressa a vincere quelle robe e io mentre lui lo faceva ridevo dentro e lo guardavo proprio con la tenerezza che si guarda una persona che sta per andare a fare una figura di merda ha finito lui ho chiesto al buon uomo di riempire i miei pallini e ho vinto tutto stupendo e così l'hai conquistato sparando a dei pagliacci l'ho conquistato più facendomi vedere in intimo vabbè questi sono i due modi di solito la scelta di una donna è questa il bivio che si pone di fronte a una ragazza è questo da sempre il corteggiamento prevede questo ti volevo chiedere una cosa sulla comunità al di là della comunità in sé poi c'è stata insomma San Patrignano recentemente se ne parlo tantissimo perché è uscita la serie Netflix che io per esempio l'ho trovata molto bella bellissima esatto volevo chiederti come Sampa penso cioè io poi ho studiato cinematografia e vabbè la cosa che ho studiato poi ho fatto televisione è proprio il linguaggio cinematografico il montaggio eccetera eccetera è un prodotto incredibile è un prodotto anche il montaggio è incredibile ci sono delle scene insomma di repertorio paragonate poi a delle interviste che sono impressionanti nessun livello italiano è mai arrivato a tanto quindi veramente bravissimi poi ci sono state un sacco di polemiche perché sono state intervistate soltanto una parte di persone di un pensiero la parte del pensiero è stato un dolore e poca parte del pensiero invece no questa cosa ci ha salvato la vita io lì non non c'entrandoci niente non so cosa dire io posso soltanto dire che come serie è incredibile è bellissima vorrei che la gente la guardasse perché poi quando è uscita è successo il panico potete immaginarlo la guardasse senza giudicare le persone perché poi dentro c'è mio padre ed è stato molto difficile perché appena è uscita la serie la gente non si rende conto che quella è vera quando guardiamo una cosa attraverso uno schermo il nostro cervello è purtroppo drogato pensa che quella cosa sia di tutti no quella cosa non è di tutti quella cosa è successa ci sono delle persone in vita che hanno raccontato la loro verità perché volevano avevano bisogno di raccontare la loro verità perché nessuno li ha mai ascoltati quindi era una necessità di sopravvivenza e quella verità è raccontata tu puoi giudicare il lavoro non puoi giudicare le persone e purtroppo questo scatto nella testa di molti non di tutti di molti non c'è quando è uscita la serie io ho spento il telefono per 4-5 giorni perché è stata una roba impressionante fra l'altro di solito quando escono dei lavori fatti bene dura l'eco insomma della potenza dura 20 giorni massimo un mese ogni cosa figa so che a voi sembra che duri tanto in realtà l'eco si elimina subito perché escono sempre degli altri prodotti e invece samp è durata tre mesi non finiva più e io ero disperata perché è stata dura ma un prodotto perfetto è vero bello è stato molto c'è pure per noi che non ne sapevamo niente ne parlavamo ne parlavamo bene senti ma c'è una domanda che faccio a tutti gli ospiti che nel tuo caso mi interessa particolarmente già lo sanno io ho visto mi sono preparato tantissimo ho letto tu hai detto solo wikipedia no 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 guarda quello di solito è la cosa che non faccio io quando inizio a preparare mi dico ok partiamo da dieci anni fa a salire e poi arrivo qua che Stefano fa ho letto su wikipedia sta cosa e io non l'ho ah già wikipedia quindi wikipedia l'ho letta due ore fa e sono partito da appunto da invasioni barbariche di sette anni fa a salire no ti hanno chiesto il tuo rapporto con la droga e tu hai detto guarda io pur essendo poi entrata nel mondo delle discoteche me ne sono tenuta lontana e una domanda che io faccio a tutti gli ospiti è che ne pensano della legalizzazione però poi ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione perché tutti mi avevano sempre la stessa risposta e invece sono curioso di sapere la tua risposta tu che ne pensi della legalizzazione secondo me le droghe leggere sì io sono favorevole alla legalizzazione tutte così ti dicono però sì però però nel tuo caso mi interessava perché invece magari io sono favorevole alle droghe leggere e anche all'utilizzo nel senso allo spiegare allo spiegare a raccontare che cosa succede che cosa fanno come si fa con le sigarette quando tutti ti dicono fa male devi stare attento i polmoni eccetera eccetera però attorno alle droghe leggere c'è vabbè c'è un racket una mafia un guadagno un pericolo enorme che non è neanche paragonabile al danno che fa l'alcol o o le sigarette utilizzate in modo eccessivo tra l'altro anche non in modo eccessivo però vabbè quello quindi c'è proprio questa discordanza di pericolosità delle cose che in realtà sono legali e questa cosa che non è legale che questa cosa che non è legale fa guadagnare tantissimi milioni di miliardi di euro nell'illegalità quindi c'è qualcosa che non torna poi io figurati sono solo una ragazza che fa spettacolo non so che cosa c'è dietro però in un contesto diciamo futuro io spero che si arrivi in fretta anche perché nei paesi dove è legale va tutto bene succede niente io non fumo io non fumo non bevo non mi drogo ma semplicemente perché non ne ho voglia va bene grazie sono molto contento nel senso che se volessi sapresti dove procurartela in questo senso beh comunque tra mondo delle discoteche e mondo della televisione qualcosa qualcosa o in discoteca non mi ha mai offerto nessuno niente eh ma perché quello è un falso metodo della discoteca o stai attento ti trovo nessuno ti regala la droga nessuno ragazzi nessuno ma nessuno nessuno ma avessero offerto magari erano i bicchieri che ti davano tu non li bevevi forse era lì la famosa droga esatto se avessimo ancora accesso a quei frutti fermentati anni adesso chissà era una famosa un tipo mi ricordo che mi offrì un crystal sì crystal si chiama vabbè bevi bevi io no grazie non bevo ma quando ti ricapita bevi mi ricordo ancora sta scena di questo coattissimo che mi fece questa battuta questa è la gente che ti offre da bere in discoteca non ha frutto da bere in discoteca no poi ecco ho detto no nessuno deve mettere la droga nel bicchiere però questo è un messaggio diseguativo no non è vero ogni tanto se siete ragazze qualcuno le mette la droga nel bicchiere quindi state attenti se siete uomini bevetevi tutto che ve frega magari vi capita a voi anzi se vedete uno che offre a bere una ragazza prende guarda lo bevo io lo bevo io ci vediamo fuori la proteggete sì esatto stai facendo una buona azione stai facendo una buona azione ma vabbè si scherza e che ci è rimasto no abbiamo detto quasi tutto cosa vi è rimasto quasi no io ti volevo chiedere un ricordo dei tuoi inizi in televisione perché allora io in realtà ci vedo in televisione la prima di sapere perché te eri una delle letteronze io ho scoperto questa cosa ero in estasi perché chiaramente mai dire straordinario le letteronze straordinarie e quindi intanto che ricordo hai meraviglioso come era mai dire da letteronza che era un ruolo diverso da quello della letterina io prima feci il provino per le letterine e non mi presero cioè quelle normali quelle normali sì quelle lì io feci il provino per le letterine e non mi presero perché non ero abbastanza sexy e feci il provino per le letteronze ma non avevo capito che volevano le persone sexy in televisione e quindi mi ricordo che fecero il provino manda un bacio c'è questa cosa che in molti provini televisivi quando facevi insomma il corpo di ballo ti facevano mandare un bacio alla camera e già tutto e io pensavo oddio devo mandare un bacio alla camera perché era tipo il primo provino e questa cosa mi fece perdere le letterine perché invece lì era tutto un più mi preso per fare le letteronze perché ballo abbastanza bene essendo avendo fatto anche la cubista nel mio curriculum e è stata intanto ho aperto la partita IVA con loro prima sempre in nero e loro sono stati pazzeschi perché insomma era una questione militare cioè noi avevamo un orario facciamo quello dovevamo stare ferme l'immobile perché il comico doveva fare il suo pezzo io ho imparato la televisione ed è stato bellissimo è stato veramente educativo infatti io da lì ho proprio avuto la conferma che quella cosa la volevo fare fra l'altro ero la meno carina delle letteronze anche se adesso non si direbbe e quando i gialappi insomma venivano parlavamo lo vedevo che erano ero quella su cui puntavano di meno nel senso che per loro non hai fatto niente e un giorno glielo dissi a Santini che poi siamo amici siamo amici siamo messi comunque in ottimi rapporti e ho detto guarda che tu mi rincontrerai tu non hai capito tu un giorno mi chiederai di lavorare con te lui mi fa ma io non lo so ma vedrai vedrai ancora non mi ha chiesto di lavorare con lui però il cerchio si stringe però prima o poi questa cosa arriverà sono stata sempre molto molto sicura di me molto sbruffona so quanto valgo devono solo capirlo gli altri e poi un altro programma che hai fatto è stato tu hai fatto a gratis ci chiamavano a gratis a gratis allora a gratis nel mondo della stand up comedy esatto grazie nel mondo della stand up comedy è una cosa di cui parlavamo perché è uno dei programmi che nella storia d'Italia ciclicamente arriva un produttore televisivo e ci dice portiamo la stand up comedy in televisione e poi vai a fare a gratis volevo sapere cioè nel senso i racconti degli amici che l'hanno fatto non tutti cerchiamo di tutelare le persone però i comici che l'hanno fatto pensando di andare a fare la stand up comedy poi di solito quasi tutti hanno mollato il programma prima della fine ma anche la stand up comedy immagino sì e volevo sapere invece dal tuo punto di vista come era pure vedere senza doverti compromettere pure vedere questi comici che arrivavano e facevano ragazzi io sono onesta allora io ho fatto io ho fatto tanti programmi perché volevo capire che cosa mi piacesse fare a gratis io facevo la parte in cui urlava il nome non conducevoli urlavo il nome del comico che si doveva esibire era lento perché la stand up comedy te la devi cioè lo stand up sale e deve conquistare il pubblico in un contesto così è complicatissimo cioè molte cose funzionavano facevano ridere le battute in prova poi le rifacevi ed era lo stesso pubblico che aveva visto in prova stessi noi che avevamo visto in prova non funzionava perché non andava era comunque un'idea e a me spiace che non ci sia un programma molto pop ma anche sulla generalista che faccia vedere quanto sia figo quanto sia figo la stand up perché fanno proprio fanno delle talmente piccole parti chiuse che insomma non ti dà questa soddisfazione comunque io ho fatto un programma ho fatto programmi di merda anche sì sì diciamo che a gratis per come l'ho fatto io è un po' in quelli ah pensavo invece quello bene sono altri peggio no ragazzi ma io stavo lì a urlare i nomi della gente vada che ruolo avevo però era un inizio qual è il programma peggiore che hai fatto secondo te il processo del lunedì perché che non avevo un ruolo ah non capisco un cazzo di calcio niente io di calcio non ci capisco a me a me il calcio mi piace quando so che gioca la nazionale perché vedo la maglia azzurra quando giochiamo contro l'argentina già ho dei problemi questa cosa mi fastidisce quindi cioè non puoi raccontare una cosa la televisione non è bugia la televisione non è menzogna è verità sembra una cazzata ma se tu dici le bugie essendo che la tua faccia da così diventa così perché sta dentro la stanza delle persone la vedono se dici una cazzata tu non puoi fingere di farti piacere qualcosa se fingi ci sono quelli che fingono non dico che non ci sono diciamo che hanno hanno meno appil sul pubblico io non sono in grado non so non so capace di dire le bugie non 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 è una non è uno skill che una skill che io ho ho allenato quindi quando una cosa non la so fare non la so fare avevo dei delle belle minigonne quello sì vabbè che comunque mi sembra che nel calcio servano sì 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 servono sono importanti sia nello sport giocato che poi quando lo si racconta sì e vabbè quindi adesso che che fai? no voglio vedere come la chiudi no che fai? che che sta a fare in questo comunque sei tornata ti riposi adesso no adesso faccio lo spettacolo non ti riposi qualche giorno c'è un po' ti pausa no no perché io ho un problema che è ho un problema dell'attenzione e anche sono iperattiva quindi io non posso fermarmi se mi fermo mi ammazzo ah e torniamo alla questione del torniamo al film russo della puntata quindi cioè se non devo fare qualcosa è perché sto scrivendo ok se non scrivo sto facendo un podcast ah se no un film o sempre qualcosa che se poi mi vergogno se poi lo faccio male non lo faccio uscire però intanto lo devo fare cioè hai fatto anche cose che non sono mai uscite certo dicene una quella di cui vai meno fiera allora ho fatto una parte ah no è uscita vale anche se non è uscita ma speravo non uscisse quale? sì sì in un film di Jerry Calac Ibi Room lo sapevo l'abbiamo visto su wikipedia abbiamo detto speriamo di speriamo che esca poi ero una comparsa ah e che facevi? ero lui passava con la camera che non mi prese cioè io feci un provino per fare una parte non mi prese che non ero abbastanza bella su questa propria della bellezza me la porto dietro da un sacco di tempo non lo so perché comunque ma stai benissimo dai passava con la camera e io dicevo solo questa battuta eh che palle avere le tette piccole io c'ho una terza abbondante per fare quella parte perché ormai ero lì e loro pensavano io fossi piatta mi avevano messo tipo una una camiciona stretta così quindi non mi sento neanche rappresentata nel mio corpo perché lì anche lì hai dovuto dire una bugia quindi non ero me abbiamo stabilito che non lo sai fare non ero me ma hai interagito con Jerry Calac ci hai parlato dopo negli anni dopo ci siamo conosciuti e gli ho detto non mi hai preso lui sono un coglione no non dire così Jerry comunque Jerry il massimo di rispetto per me grande artista io amo la commedia italiana specialmente quel genere là a me piace a me i b-movie piacciono tutti sono una forma d'arte incredibile sono abbastanza d'accordo abbastanza d'accordo sì sì allora a questo punto quali i tuoi preferiti o qual è il tuo preferito allora Viva la foca siamo proprio su Viva la foca siamo sui classici Viva la foca è bella guarda non penso che faccia parte dei b-movie però ai tempi tutte le versioni Attila Flagello di Dio Abba Antuono So Diabolico nell'Amplest ho spropuzionato per quanto riguarda le dimensioni di un sesso sai che l'ho rivisto l'altro ieri no sì 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 So Diabolico nell'Amplest fanno ancora ridere fa mega ridere fa riderissimo a me fanno ridere ah come atrocità doppia T doppia T come terremoto tragedia I come ira di Dio L come l'acqua di sangue adesso vengo lì ti spezzo le corna bellissimo bellissimo quella scena immortale del cinema italiano è vero è vero è vero le cose noiose mi annoiano lo so che ci sono delle cose molto interessanti con più livelli di lettura di pensiero ma a me mi annoiano proprio non devi giustificarti ok siamo dalla tua parte ok siamo sì sì non ci sta stai parlando della pezza di Lundini quelli sì 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 torniamo sempre lì abbiamo letto tra le righe subito abbiamo capito istantaneamente di cosa stessi parlando ma hai conosciuto altri personaggi di questo mondo cioè di quel mondo conducendo Stracult li ho anche Pozzetto conosciuto conosciuto tutti io ho condotto Stracult per sei anni con Marco Giusti e Fabrizio Biggio e tutti tutti quelli che hanno fatto la storia del cinema italiano sono passati da noi quindi voglio dire non ho non ho mi sono tolta tutte le soddisfazioni mi sono tolta ma hai qualche aneddoto con questi personaggi qui in particolare o con qualcun altro che è passato lì e dice questa questa cosa guarda Villaggio fu quello che che comunque mi toccò cioè emotivamente più di tutti gli altri perché lui raccontò veramente come era ma pentito di come era dicendo che era uno stronzo che lui trattava male tutti che non aveva voglia di interagire con le persone che si divertiva quasi a mettere in difficoltà gli altri ma se lo diceva con pentimento e di solito anche Thomas Millian ad esempio che venne e fece un'intervista straordinaria e poi fece uscire un libro io ve lo consiglio il libro di Thomas Millian che lui lo scrisse sapendo che mancava poco da vivere perché scrisse tutto cose che quando io ho letto ho presentato io il libro qua a Roma mi colpì molto perché ho pensato come è possibile cioè dice nomi e cognomi di gente che c'è ancora cose veramente difficili se non hai delle prove da poter mettere nero su bianco perché ti arriva una denuncia poi dopo è venuta a mancare quindi ho capito cioè voleva togliersi il peso sapeva che insomma non avrebbe pagato le conseguenze ci sono delle persone che hanno detto tutto io vi consiglio di recuperare le puntate di Stracult ma forse tutte sono tante lo so però Stracult è un programma che era necessario ora non so sono tanti anni che non lo facciamo più non so se sarebbe ancora così poi Marco Giusti è lui il gota di Stracult ma era un programma molto interessante nessuno ha mai raccontato quel tipo di cinema in quel modo perché in realtà vanno a fare promozione di solito e non a raccontare quello che avevano fatto purtroppo la televisione è diventata promozione questa cosa mi dispiace perché è troppo veloce però prossime date facciamo questa cosa parto il 24 febbraio torno in tournée sempre sul mio profilo Instagram e allora tutti sul profilo Instagram e per favore un altro applauso Andrea De Logu grazie mille grazie a voi fate un applauso anche a Stefano Rapone a Snodo a The Domani Club e ancora a Andrea De Logu grazie ci vediamo la prossima puntata ciao grazie a tutti grazie a tutti